A febbraio Tesla aveva annunciato di aver investito un miliardo e mezzo di dollari per comprare Bitcoin, così come rivelammo su questo articolo del Cryptonomist. Ebbene, ieri ha rivelato di aver venduto una parte di quei Bitcoin, in particolare, come riferisce CNBC in questo articolo di cui vi metto il link in descrizione, ha rivelato di aver venduto Bitcoin per un totale di 272 milioni di dollari con un guadagno di 101 milioni di dollari. Ora io ho fatto i calcoli, se noi prendiamo i 272 milioni che hanno incassato e gli togliamo i 101 milioni che hanno guadagnato, viene fuori che quelli che hanno venduto sono Bitcoin e che avevano acquistato investendo 171 milioni di dollari. Quindi, avendoli acquistati a 171 milioni di dollari e venduti a 272 milioni di dollari, ci hanno guadagnato il 60% in pochissimo tempo, praticamente in due o tre mesi. Inoltre, da questi dati possiamo anche dedurre che l'acquisto di Bitcoin Tesla potrebbe averlo fatto quando il prezzo era compreso tra 35 e 40 mila dollari e la vendita potrebbe averla effettuata a marzo quando il prezzo di Bitcoin è salito per la prima volta sopra i 60 mila dollari. Pertanto, più o meno, la società a marzo ha venduto poco più del 10% di ciò che aveva investito tra fine gennaio e inizio febbraio. Sebbene la società non abbia rivelato il perché di questa decisione, quello di vendere una parte di Bitcoin, ha però dichiarato che lo ha fatto sicuramente per incassare parte dei guadagni, però affermando chiaramente che l'intento è quello di detenere, conservare Bitcoin sul lungo termine. Infatti, per approfittare dei prezzi particolarmente alti, ne ha venduto solo una parte, poco più del 10%. Tra l'altro, non è nemmeno impossibile immaginare che ad aprile, magari quando il prezzo è tornato sotto i 50 mila dollari, possa aver di nuovo comprato. Per ora non lo sappiamo perché questi dati si riferiscono al primo trimestre del 2021, terminato il 31 di marzo. Quindi non sappiamo che cosa hanno fatto poi ad aprile. D'altronde, dopo una crescita così rapida e un guadagno del 60%, ci stava liquidare una piccola parte dell'investimento per incassare dei profitti, visto che 101 milioni di dollari di profitto, fatto in pochissimo tempo, con un investimento di un miliardo e mezzo di dollari, è tanta roba. Inoltre, aggiungo io, il fatto che abbiano deciso di vendere solamente il 10% per monetizzare un po', probabilmente fa pensare che credano che il prezzo di bitcoin abbia ancora delle potenzialità. Ricordatevi che loro hanno venduto più o meno probabilmente sui 60 mila dollari. Quindi è possibile che ritengano che il prezzo di bitcoin possa tornare sui 60 mila dollari o addirittura superarli in futuro, per quello che hanno ancora quasi il 90% dei loro bitcoin in portafoglio e ne hanno venduti solamente pochi. In altre parole, stanno rivelando di avere una gestione intelligente di questo investimento. D'altronde hanno investito un miliardo e mezzo di dollari, quindi è tanta roba. Vedremo cosa faranno poi in futuro, perché comunque tutti questi dati sono pubblici, essendo una società quotata in borsa. Io ovviamente vi terrò aggiornati e ricordo ancora che tutti i miei video vengono anche pubblicati sul gruppo Telegram Cryptovalute Italia, all'interno del quale potete discutere anche di queste cose. Vi metto il link in descrizione. Un saluto! Ciao!